La venerabile Gaetana Tolomeo è la figlia spirituale di Padre Pio in cammino evidentemente verso la santità ufficiale riconosciuta dalla Chiesa che vogliamo approfondire quest'oggi mentre ci incamminiamo a grandi passi verso la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina assieme a Francesco stiamo approfondendo questo bel cammino fatto di figure, di persone concrete di fatti reali, fatti realmente accaduti che possono essere di stimolo a ciascuno di noi per riprendere il proprio cammino verso la santità sia essa riconosciuta che non dunque quest'oggi la venerabile Gaetana Tolomeo Sì, per tutti Nuccia, questa bella ragazza, una ragazza bella dentro, che si è offerta vittima per l'umanità sofferente, lei lo diceva spesso. Purtroppo Nuccia da subito, dalla nascita ha un problema, lei nasce il 10 aprile del 1936 ed è venerdì santo, già questo ci fa capire, ci fa entrare in quella che è stata la sua vita, una vita fatta di sofferenza, la diagnosi è terribile, appena nata, ha una paralisi progressiva deformante, pensate un po' per cercare una cura, la famiglia si trasferisce a cuneo ma non riescono, non c'è proprio nulla da fare. Ed è una bambina che viene subito educata cristianamente, matura la sua coscienza del suo stato in una visione di fede, trova così in Gesù crocifisso le motivazioni per cantare la vita. Viene aiutata dalle cugine, dotata di un'intelligenza pronta, così come hanno raccontato in tanti, e dà senso alla sua vita pregando per gli altri. Infatti casa sua diventerà per tutta la sua vita un luogo di accoglienza di persone che si affidavano proprio a lei, alle sue preghiere. Lei che è diventata nel corso della sua vita una testimonianza vivente di coraggio, di fortezza e di sorriso, perché lei sorrideva sempre, nonostante la sua malattia, nonostante la sua sofferenza, anche quando stava male, ci sono anche dei filmati di Nuccia, perché tra l'altro Nuccia è morta quando c'era la possibilità di avere delle immagini a coloro, insomma negli anni 1997. Nel 1997. Lì con tutto il suo sorriso, infatti chiamava il suo angelo custode Sorriso, con tutto il suo sorriso era il Sorriso un'arma importante che usava, contagiosa e che regalava e donava a tutti coloro che andavano a trovarla. Infatti c'è un'espressione di Nuccia che si affida a uno strumento di evangelizzazione che è la radio, infatti lo farà attraverso Radio Maria, dove lei aveva un programma fisso ogni settimana, ci sono state tutta una serie di coincidenze che sono partite da padre Pio, perché la responsabile dei gruppi di preghiera di Catanzaro l'ha mise in collegamento con il giornalista Quaglini che poi è diventato un testimone anche per tutta la sua, uno dei testimoni della sua causa e grazie a questo giornalista lei teneva questo appuntamento fisso dedicato all'umanità sofferente e disse sono Nuccia in uno dei suoi diversi audio, ho 60 anni, tutti trascorsi su un letto, il mio corpo è contorto, in tutto devo dipendere sempre dagli altri, ma il mio spirito è rimasto giovane, il segreto della mia giovinezza e della mia gioia è vivere, di vivere e Gesù alleluia. È un messaggio che Nuccia diede proprio a dei ragazzi, dei ragazzi che si incontrarono in quel periodo, grazie dell'azione cattolica, in Sardegna e lei diede questo messaggio. Padre Pio, lei è sempre sostenuto di essere una fervente figlia spirituale di padre Pio, ha preso da padre Pio sicuramente attraverso la sofferenza e anche nel dare una parola di conforto agli altri e vedere, quindi incarnarsi in quello che è la croce e quindi Gesù crocifisso. Ha preso in prestito l'arma di padre Pio perché lei attraverso il rosario ha convertito e ha cercato di convertire tante persone che andavano da lei, infatti la stessa Nuccia chiamava la corona del rosario, la chiamava la sua arma. C'è un episodio anche particolare, anche perché Nuccia ha scritto diverse lettere a padre Pio e sono stati diversi telegrammi che da San Giovanni Rotondo arrivavano a Catanzaro, a casa sua, anzi tra l'altro c'era solo la scritta, ad esempio c'è un episodio proprio significativo da raccontare. Nuccia stava male, alle 5 del mattino però avverte un grande profumo, lei si affida a padre Pio, lei stava male quindi era spacciata, non c'era più nulla da fare. Dopo alcune ore arriva un postino, il postino che consegna un telegramma e non c'è indirizzo su questo telegramma, c'è solo scritto Nuccia CZ e basta. Arrivava da San Giovanni Rotondo dove c'era scritto padre Pio prega, assiste, benedice l'inferma. Era il 4 ottobre del 1957, Nuccia si riprende e quello lei lo ha percepito come una grazia, come un miracolo, come attraverso l'intercessione di padre Pio. In lui lei trova il modello a cui fare riferimento per vivere la sua sofferenza all'interno del mistero pasquale di Cristo. Morire con Cristo diceva per risorgere con Cristo. Proprio in questi messaggi parla di gioia, una gioia particolare dice Nuccia, la gioia della sofferenza, il dono, il dono che le ha dato Dio di questa malattia. Perché diceva mi immette in quello che è il progetto di Dio, quello che Dio vuole da me, anche attraverso la malattia. Fu proprio come vi anticipavo il responsabile dei gruppi di preghiera, la responsabile dei gruppi di preghiera è a metterla in collegamento con Radio Maria, quindi diventa il suo messaggio, un messaggio internazionale, la radio arriva dappertutto, arriva in tutti i luoghi, tanti carcerati si affidano proprio a lei, tante preghiere, tante intercessioni, tantissime lettere che sono giunte proprio a Catanzaro anche attraverso questo strumento, quindi questo modo di evangelizzare di questa donna che è ormai quasi giunta alla, lo possiamo dire, fra Pasquale e Pitali che all'interno dell'ufficio della postulazione è al vaglio un miracolo e quindi possiamo dire che tra qualche mese forse avremo la notizia anche della beatificazione di Nuccia. Mentre io soffro e offro, tu Signore guarisci, operi e liberi. Dunque così Nuccia, la venerabile Nuccia, si associa alle sofferenze di Gesù in completa sintonia anche con Padre Pio e muore dicendo portatemi Gesù, voglio Gesù. Dunque un'altra vita, quella che abbiamo voluto descrivere quest'oggi per sommi capi ovviamente, che potete ritrovare in una versione un po' più estesa nel giornale Voce di Padre Pio del mese di settembre del 2019. Noi anche per quest'oggi abbiamo chiuso, grazie Francesco e grazie a tutti voi.